Sono 1.185 positivi da Covid riscontrati quest'oggi in Friuli, Venezia e Giulia. Su 7.969 tamponi molecolari sono stati rilevati i 705 nuovi contagi, ai quali si aggiungono 100 persone già risultate positive al tampone antigenico negli scorsi giorni e confermati da quello molecolare, con una percentuale di positività del 10,1%. Sono invece 1.804 i test rapidi realizzati in cui sono stati rilevati 480 nuovi casi, bene il 26,6%. I decessi oggi sono 23, ai quali si aggiungono due morti pregresse relative al periodo tra il 5 e il 7 gennaio. I ricoveri nelle terapie intensive scendono di un'unità fermandosi a 68, mentre quelli in altri reparti aumentano fino a 668. Tra i positivi di oggi ci sono 60 nuovi casi riscontrati nel settore delle residenze per anziani tra gli ospiti e 14 tra gli operatori sanitari, mentre analizzando i numeri all'interno del sistema sanitario regionale sono 21 le persone affette da Covid, da rilevare le positività al virus di tre persone rientrate rispettivamente dalla Repubblica Dominicana, dalla Serbia e dall'Albania. I decessi complessivamente ammontano a 2.600, i totalmente guariti aumentano a 42.494, così come i clinicamente guariti, che sono 1.229, mentre le persone in isolamento risalgono a quota 12.127. Per quanto concerne le vaccinazioni, infine, sulle 37.315 dosi consegnate è stato somministrato il 62,8%. Di queste, 15.936 sono state inoculate agli operatori sanitari e sociosanitari, 2.103 agli ospiti delle strutture residenziali.